Oggi porterò i miei inquilini Erasmus a vedere Bolzano L'unico problema è che io non so niente di Bolzano Quindi sarà un po' complicato Guys, we are just arrived in Bolzano Say hi guys Ragazzi, io ero abito a vederlo quando facevo il tirocinio in settimana Oggi è domenica non c'è un'anima a vive in giro È proprio vuota Ragazzi, sono troppe biciclette Troppe E raga, abbiamo scoperto dove va tutta la gente di Bolzano Nel weekend E soprattutto quando c'è bel sole Hello This is our bodyguard Anna, what do you think about Bolzano? Super nice And everywhere a dog's chicken Cosa ne pensi di Bolzano? Come di bel? Ti piace? Bellissimo? But I need a beer You need a beer, ok Now we're going to take a beer Raga, credo che le regole anti-covid qua non esistano perché stanno organizzando un concerto, guardate E' unico vero monumento di Trento Raga, lo skatepark Che figata Questa era molto figa Ti piacevi? Tanto Tanto Se avessi uno skate mi sarei bussato Io mi sono già rotto una volta con lo skate Ma anche se non lo sai usare si bussato Sì, sì No, scherzo Ragazzi, la cattedrale di Bolzano Bellissima Imponente Molto bella Manoel, cosa hai fatto? Grappa 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 Ok, raga, praticamente c'è stato un cupido che mi ha detto che questa ragazza vuole Lorenzo. E quindi dobbiamo scoprire la verità, ragazzi, dobbiamo scoprirla. Ci siamo, che è quello scritto. Ok, data la risposta, la leggo io, la leggo io. A te. Dipende chi è. Com'era, che è che... Sì